I'm gonna love you Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su Delta Channel insieme al vostro Firewolf e la vostra David Pink per la premiazione del Mega Contest questa prima edizione diciamo ci scusiamo per il ritardo ma in questo periodo abbiamo tanti tanti problemi a livello esterno, lavorativo, personale vi dicendo e quindi appariamo un po' meno qua sul canale ma ci siamo sempre abbiamo anche un po' di difficoltà a far uscire i video ma ci siamo ragazzi non usciranno più con la stessa contestività però noi ci siamo, abbiate fiducia in noi esatto detto questo ragazzi sarà molto breve questo video perché ovviamente abbiamo il vincitore o la vincitrice del Mega Contest prima di tutto è giusto fare una precisazione chi ci ha seguito nelle storie di Instagram avrà visto che c'è stato una sorta di ballottaggio tra due partecipanti innanzitutto se vi siete persi il video andatevelo a rivedervo, lo lasciamo qui da qualche parte che non so mai e guardatevi il contest come è andato avrete visto che due persone sono finite a fare il merito di votazione e quindi abbiamo dovuto fare una storia di Instagram e quindi ragazzi chi è il vincitore tra il numero 3 e la numero 5 è la numero 5 e rullo di tamburi ecco a voi la vincitrice la numero 5 come vedete è stato uno scontro bello intenso avevano iniziato con un punteggio pari nel video YouTube e poi su Instagram c'è stato ovviamente questo spareggio dove ha vinto la numero 5 ma comunque vogliamo fare i complimenti anche al numero 3 e in più ragazzi vi lasciamo qua in descrizione il link per la sua pagina Instagram se volete seguirlo è davvero molto 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 bravo seguitelo perché noi diciamo sempre non vuol dire che se c'è stato un vincitore solo vuol dire che l'altro è a meno anzi assolutamente complimenti ancora infatti per me è stata veramente una bellissima gara tra tutti e nove che dovevano essere dieci ragazzi e ovviamente poi alla fine questo scontro tra loro due che è stato molto molto bello e abbiamo anche una piccola intervista ragazzi con la numero 5 e che ovviamente ha ottenuto il premio il buono Amazon da 50 euro è stata un'intervista molto molto veloce ragazzi perché c'era un vento pazzesco e giustamente avevamo poco tempo tra tutti quindi godetevi questa intervista che arriva ora ciao a tutti siamo qui con la vincitrice di questa prima edizione mega contest di Channel V-Delta io ho il suo buono Amazon il suo premio chiaro vuoi dire qualcosa? intanto ringrazio tutti quelli che mi hanno votato la mia famiglia che ho corrotto sotto 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 no e ringrazio soprattutto Channel V-Delta che organizza questi contest ci dà la possibilità anche di vedere altri cosplay meravigliosi come quello con cui ero in competizione quindi complimenti anche a lui e niente facciamogli un applauso comunque anche a lui perché a me userò questo buono per comprare cose per fare altri cosplay perfetto ora io te lo consegno grazie non sapevo come concludere eccoci tornati ovviamente l'intervista l'ha fatta la nostra Debbie Click e se il video vi è piaciuto e soprattutto se il contest vi è piaciuto lasciate un bel like iscriviti al canale se non siete ancora iscritti attivate la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i miei del Delta Channel condividete il più possibile e noi ci vediamo a un nuovo e prossimo video chi è il vincitore tra il numero 3 e la numero 5 e la numero 5 tu 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 ruolo di tamburi seguite il video è quello dove c'è la premiazione ah no lo diciamo direttamente ah ciao a tutti ragazzi ok ciao a tutti ragazzi siamo qui con la vincitrice di questo prima e mega prima prima rifacciamo taglia ok io vado in ripresa continua poi taglierò ok ti prego poi fai un quello dietro le quinte lo facciamo spesso vai tranquillo con bestemmi e altro non ti preoccupare tutto bene ci siamo ciao ciao